E allora ancora una volta parliamo di jazz, in una stagione che mai forse ha visto la presenza di questo linguaggio musicale così forte, così rappresentata, così voluta dal Teatro Verdi di Pordenone. Ricordo brevemente una stagione che si è aperta alla grande con il grande evento di Herbie Hancock in Piano Solo, una collaborazione significativa con Controtempo, l'associazione che organizza tra l'altro il Festival del Volo del Jazz, di cui questo evento era anche anteprima. E poi la valorizzazione degli altri spazi del teatro, che non è soltanto la Sala Grande, ma anche lo Spazio 2 per ospitare per esempio Jazz Loft, quella bellissima rassegna di musicisti emergenti o anche ampiamente affermati, ma che provengono dalla nostra regione, dal nostro territorio. Quindi dall'attenzione alle forze locali, ai grandi eventi e naturalmente il cartellone, quattro sono i concerti nel cartellone principale dedicati al jazz. Ma oggi parliamo di un'altra iniziativa, ancora una volta in collaborazione con Controtempo. Parliamo di Piano Jazz, ossia una rassegna pianistica, tre grandi concerti che si terranno però in uno spazio più raccolto, più intimo, una dimensione più familiare, salottiera, quella del ridotto del teatro Verdi. E allora avremo l'apertura l'11 aprile. Tre pianisti, tre personalità molto diverse tra loro, ma possiamo dire accomunate tutte da un'idea di sperimentazione, di un linguaggio musicale jazzistico non convenzionale, che spazia dal dichiarato richiamo alla tradizione classica per arrivare fino al crossover o alla world music. Allora, l'11 aprile sarà in scena Chris Jarrett, che è fratello del più famoso Keith Jarrett, ma musicista a tutto tondo, musicista importantissimo, che vive in Germania e che dichiaratamente afferma essere attaccato alla tradizione classica, perché se gli si chiede a quali musicisti lui si ispira, e gli risponde Joanne Sockegem, Sergei Prokofiev, Charmingus e addirittura Frank Zappa. Il secondo appuntamento sarà il 26 aprile, con un musicista nordico, Martin Tingval, che abbiamo conosciuto in Friuli Venezia Giulia, alla guida del suo trio, il Tingval Trio, questa volta in piano solo nel nuovo progetto discografico Ein Night Doug, che significa Un Nuovo Giorno. È come se raccontasse appunto di una giornata che inizia e finisce con la notte, inizia con una stella cadente e finisce con la costellazione del grande carro, per raccontare cosa? Per raccontare stati d'animo, fatti di malinconia o di gioia, emozioni sublimi, incantate, atmosfere nordiche, come naturalmente soltanto un pianista nordico può fare e conclusione il 4 maggio con uno dei più importanti pianisti italiani, Cesare Picco, il suo nuovo progetto Piano Calling. Anche Cesare Picco è un pianista in continua evoluzione e ricerca, che spazia, inventa e ci sorprende continuamente ogni volta che propone una nuova proposta discografica. Quindi un ciclo molto importante, piano jazz, che chiude una stagione dedicata al jazz, al Teatro Verdi di Pordenone.